Anno nuovo e vittoria nuova all'orizzonte per il Gela e l'auspicio in casa Biancazzurra. Domani riparte il campionato di Serie D dopo le vacanze natalizie. Comincia il girone di ritorno. Al Presti sarà di scena il Pomigliano, squadra che in classifica ha un vantaggio di un punto rispetto ai Gelesi. 29 contro 28, una partita da vincere a tutti i costi per il team allenato da Pietro Infantino. Un successo che proietterebbe Saitta e compagni in piena zona playoff. E' fondamentale iniziare il nuovo anno col piglio giusto. Abbiamo finito lo sfostato nel migliore demo e adesso siamo vogliosi di ricominciare nella maniera più giusta. Lo sappiamo che domani è una partita in Bostana, arriva una squadra appena attenzata, quindi ci faremo trovare pronti. Domani il tecnico Gelesi dovrà fare a meno del centrocampista Evola, squalificato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammunizioni. Da verificare le condizioni di alcuni acciaccati. Chiunque andrà in campo comunque dovrà dare il 101%. Ogni singolo giocatore tiene un'importanza fondamentale, quindi è chiaro che anche quelli che vengono chiamati in causa è chiaro che ti danno il 100%. Le assenze sono sempre pesane, perché parliamo ovviamente di giocatori che hanno esperienza come Ciccio e Raffaele, però su questo non ci dubbio che quelli che vengono chiamati in causa danno l'animo per la maglia e per i compagni. Da domani, se vogliamo, comincia un nuovo campionato e il Gela ha tutte le carte in regola per agguantare una posizione d'elite in classifica. Le potenzialità ci sono. Le potenzialità non mancano, anche noi siamo consapevoli dei nostri mezzi. Queste squadre non si vuole né obiettivi né limiti. L'obiettivo nostro è quello di fare bene e di sorprendere. E speriamo di cominciare a farlo da domani.